Buongiorno, mi chiamo Volpi Lucia, luci per gli amici e sono nata il 18 agosto del 1957 in provincia di Berga. Peso all'incirca 51 kg, dopo le vacanze raggiungo tranquillamente i 52 kg, porto la taglia 42 e come scarpe ho il 35-36 kg, insomma un piedino di cenerentola. La mia età scenica si aggira sui 45-50 anni e tra le mie passioni c'è la recitazione. Questo è il provino che mi ha mandato Lucia. Lucia ha seguito, direi scrupolosamente, le indicazioni che vi ho dato la volta scorsa e ha realizzato questo provino così a casa sua. Ha commesso qualche errore, perché per esempio guardava a sinistra, probabilmente lei si è scritta un foglio dove doveva dire le cose che ha pensato e si vede benissimo che legge, ma questa non è una telepromozione, è un provino. Poi invece di durare un minuto, dura un minuto e mezzo. E' stata un pochino leziosa con i suoi piedini di cenerentola o tutto quanto, però sicuramente Lucia è una persona simpatica e comunque è il mio mito e io appena dovessi avere un'occasione sicuramente la chiamo e le darò l'opportunità di farsi un'esperienza di recitazione perché ci ha provato e devo dire ci ha provato seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni che le avevo dato. Vi ripeto, basta nome, cognome, potete anche non mettere il cognome, basta il nome, l'età, l'altezza, il peso e dove vivete. Tutto ciò è sufficiente perché un regista, i registi che sono iscritti a questo canale e che cercano continuamente persone che abbiano voglia di fare un'esperienza di recitazione, che abbiano voglia di collaborare, che non siano semplicemente alla ricerca di denaro, di ingaggi, ma proprio di esperienze. Ebbene, questi dati sono più che sufficienti per un regista per decidere se è il caso o meno di chiamarvi. Quindi complimenti a Lucia, ha i suoi piedini di cenerentola e mi raccomando, la prossima volta Lucia non mettere prima il cognome e poi il nome. Non siamo al servizio militare, si dice Lucia Volpi, va bene? Ci vediamo la prossima volta.